Ciao Matteo, ti ringrazio per la sfida, ma passiamo un attimo prima alle notizie considerate importanti. Sono davvero tantissimi i rovesci di cazzate presenti tutt'Italia a partire dal nord, fino ad arrivare praticamente al sud d'Italia a partita dall' Austria, questa moda della nomination. Davvero tantissimi i rovesci e gli sbocchi da parte delle persone. In tutta Italia è prevista anche delle vittime per questa bevitura di alcolici, tantissimi ragazzi che hanno perso appunto la vita per questo giochi appunto stupidi. Lasciamo un attimo uno spot che finanzia diciamo questo programma. Anche io sono stato nominato, ma rifiuto la sfida per quello che abbiamo appunto appena detto. Preferivo più le sfide al braccio di ferro, a pallone oppure direttamente a fare a cazzotti, oppure sfide a pollice anche perché tre sciortini o metà birra la possono bere tutti, non mi sembra affatto una sfida. Grazie. Grazie.